Andiamo là che tanto anche se ci prendono di fatto non ci succede niente. Ed è il motivo per cui molto spesso questi delinquenti in maniera spudorata affrontano i padroni di casa alle stesse forze dell'ordine. Raffica di furti a Vigonza. L'assessore alla sicurezza Damiano Gottardello propone di rimpatriare un bandito su dieci e fargli scontare la pena nel proprio paese d'origine. Un deterrente perché, dice, chi delinque nel nostro paese è consapevole di passarla liscia con molta facilità. Potremmo dire che è una forma di educazione e di dissuasione al delinquere. Non dico di mandarli tutti, ma basterebbe che ne mandassimo uno ogni dieci. Quando uno sa che rischia di andare a scontare la pena nel suo paese, vi posso garantire che difficilmente viene a delinquere in Italia perché nel loro paese quello che succede in Italia non succede. Ci sono problemi di carcere, gliela costruiamo noi e dopo la facciamo gestire a loro però. Questo sarebbe un dissuasivo che risolverebbe il problema che in questo momento abbiamo in Italia dei furti nelle case. Per Gottardello bisognerebbe prendere esempio da altri paesi anche sul fronte della legge che regolamenta la legittima difesa. In Italia sostiene troppo spesso la vittima passa dalla parte del torto. Io credo che in questo caso la legge debba essere cambiata. Non possiamo pensare che chi entra a casa nostra viene più tutelato di chi abita ed è in quella casa.